Uno maltratava l'anziana madre, l'altro aveva fatto lo stesso con la moglie ed era stato allontanato ma a quel punto aveva praticamente smesso di contribuire al mantenimento dei figli. Due distinte attività del nucleo investigativo dei carabinieri, svolte con il coordinamento della procura, hanno portato all'esecuzione di una misura di sicurezza e a un ordine di pagamento. Nel primo caso un 47enne bellunese ha maltratato per circa un anno la madre 80enne colpendola con calci e schiaffi, strattonandola, insultandola e minacciandola di morte e coltello alla mano. I fratelli dell'uomo e gli operatori sociali hanno segnalato la situazione ai carabinieri. Gli elementi raccolti hanno portato all'esecuzione della misura di sicurezza. L'uomo dovrà passare un periodo di trattamento terapeutico in una struttura sanitaria aderendo a un programma specifico. Nel secondo caso un 45enne ungherese residente a Feltre, già restato in flagrante per maltrattamenti a danno della moglie colpito dal divieto di avvicinamento, aveva deciso di non corrispondere praticamente nulla alla donna e ai figli per le incombenze quotidiane. Alla moglie arrivavano giusto 50 euro al mese e quindi era costretta a ricorrere a forme di aiuto assistenziale. L'uomo però prende uno stipendio da 2100 euro mensili e con l'ordine di pagamento se ne vedrà prelevare 950. Non potrà fare a meno di pagare, il prelievo è diretto e operato tramite il datore di lavoro.